Cari amiche e cari amici filosofi, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro dedicato al tema dell'utopia possibile. Vi do questa sera un saluto assai triste perché purtroppo da qualche giorno non ho più la mia cara gattina Miledi che avete visto qui alle mie spalle in tanti altri video precedenti. Purtroppo Miledi se n'è andata all'improvviso per una grave forma di tromboembolia rispetto alla quale i veterinari non hanno potuto fare più di tanto. Comunque lei è sempre qui, sicuramente nei cuori di tutti coloro che l'hanno amata e che lei ha amato questa gattina bella, buona e dolce, ci accompagnerà comunque in un altro modo nelle nostre chiacchierate. Ma veniamo al dunque. La volta scorsa abbiamo parlato della possibilità, dell'utopia possibile come possibilità di porsi alla ricerca di una forma di esistenza autentica rispetto all'esistenza in autentica prevalente nello stato di cose dato in quello che Hegel chiamerebbe l'essere determinato, l'essere la realtà così come ci si offre e ci si presenta nel momento attuale e soprattutto presente. teniamo in considerazione questo concetto di presenza. Abbiamo parlato dunque della possibilità di compiere questa ricerca. Il paragrafo che ci accengiamo ora a leggere insieme, ad analizzare, si occupa di dove, la domanda dove rivolgerci per porre in atto questa ricerca. Dove cercare? Andiamo allora a prendere insieme la pagina che riguarda questo tema. Eccola qui, dove cercare? Leggiamo insieme. Tale verità, tale esistenza autentica può attualmente essere solo vista o meglio intravista in controluce attraverso la falsa esistenza inautentica, disumana, alienata, che la cela e la rivela ad un tempo come la maschera cela il volto, ma al tempo stesso ne rivela la presenza, come la facciata cela e rivela la struttura architettonica sottostante, come in termini cari a Marx la scorza mistica, cela e contiene il nocciolo razionale. Allora, rivediamo uno per uno questi concetti. la nuova forma di esistenza alla quale noi pensiamo, alla quale noi utopicamente, nel senso già chiarito le volte precedenti, tendiamo questa nuova autentica esistenza al momento attuale. Dato che noi ancora abitiamo la falsa esistenza, non può essere da noi vista in maniera totale e completa. E noi dobbiamo ancora percorrere del cammino, dobbiamo cambiare, come accennavamo le volte scorse, noi stessi, i nostri occhi, il nostro modo di vedere per poter cogliere a pieno questa verità e per poter cercare di tradurla da potenza in atto. Quindi come la possiamo vedere, o meglio intravedere? La possiamo intravedere osservando criticamente la falsa esistenza, alienata, disumana, nella quale ci troviamo a vivere. La visione critica, il vaglio, l'esame critico di questa situazione ci può aiutare a metterne in evidenza le falle, gli errori da correggere e quindi ci può aiutare a capire e a focalizzare come non dovrà e non potrà essere l'esistenza autentica. Ecco perché questa esistenza autentica per ora noi la possiamo intravedere soltanto, come dicevamo, in trasparenza, guardando criticamente alla falsa esistenza attuale. Abbiamo poi detto che la falsa esistenza al tempo stesso cela e rivela quella autentica, così come la maschera cela il volto, ma il volto che ricopre, ma al tempo stesso ne rivela la presenza. Il significato è molto simile a quello che abbiamo appena innucleato, abbiamo appena focalizzato, ossia la falsa esistenza cela l'esistenza autentica perché surretiziamente prende il suo posto, vuol farsi passare come esistenza autentica, vuol farsi credere esistenza autentica. Però se guardata criticamente, se guardata con spirito critico, rivela, come dicevamo, allo sguardo, appunto, critico le sue falle, le falle nella sua trama, i suoi errori, le sue mancanze, tutto quello che va corretto e cambiato e che quindi ci indirizza già nella giusta direzione per procedere verso l'esistenza autentica, l'esistenza vera, la verità. Ecco perché la falsa esistenza al tempo stesso cela e rivela l'autentica. Abbiamo poi anche fatto riferimento ad un'espressione di Marx, abbiamo detto in termini cari a Marx, la scorza mistica cela e contiene il nocciolo razionale, un'espressione usata da Marx nel primo libro del Capitale, dove Marx si riferisce criticamente alla filosofia hegeliana. Noi sappiamo che Marx riconosce personalmente un grande debito nei confronti di Hegel e della sua filosofia, ma ritiene anche che la filosofia di Hegel vada interpretata, non vada presa qua talis, come tale, vada rivista, corretta e anzi addirittura, dice, afferma Marx, rovesciata. Perché? Perché la filosofia hegeliana, in quanto filosofia dell'idealismo, ha posto alla base di tutto, appunto, questa entità ideale e ha fatto, per così dire, camminare l'uomo e la sua storia sulla testa, anziché sui piedi. L'espressione completa utilizzata da Marx la troviamo nella nota 1, alla fine del testo, il cui link potete trovare nelle descrizioni. La frase completa di Marx suona così. «La mistificazione di cui soffre la dialettica nelle mani di Hegel non toglie affatto che egli per primo ne abbia esposto in modo comprensivo e cosciente le forme di movimento generale». Cioè, Hegel ha correttamente compreso ed esposto il moto, il divenire dialettico della storia, il suo muoversi per contraddizioni, per forze contrapposte, per serie di tesi, antitesi e sintesi, come abbiamo già illustrato la volta scorsa. Tuttavia, procediamo con la frase di Marx, in lui la dialettica si regge sulla propria testa. E' vista in forma, in chiave, idealistica e quindi capovolta. «Bisogna capovolgerla per scoprire il nocciolo razionale entro la scorza mistica», cioè la verità contenuta, celata, entro il guscio di falsità. «Bisogna quindi mondare, diciamo così con un termine poco elegante, la dialettica hegeliana, per scoprirne la verità al di là della forma falsificata dalla visione idealistica che Hegel stesso ce ne dà». Quindi bisogna rimettere l'uomo e la sua storia sui loro piedi e con questi farli camminare. Da questo punto di vista, attenzione, Marx prende da Hegel da un lato, da Feuerbach dall'altro, perché da Hegel prende, diciamo così, il lato attivo dell'umanità e della sua storia, il divenire, la dialettica, da Feuerbach prende ed apprende il lato sensibile dell'uomo, del suo agire e della sua storia. Ricordiamoci espressioni tipicamente Feuerbachiane come «l'uomo è ciò che mangia». Ciò ci dà la misura dello sforzo compiuto da Feuerbach per concretizzare l'immagine idealistica dell'uomo, per capovolgerla, per rimetterla sui piedi. In Feuerbach però che cosa è carente? È carente l'aspetto dell'attività, l'aspetto storico, l'aspetto della prassi, l'aspetto del divenire. Ecco allora che Marx vede Hegel e Feuerbach come una sorta di tesi e antitesi dialettiche e ne cerca, per così dire, a sua volta la sintesi. Cerca di prendere quanto c'è di buono in Hegel, scartando i suoi errori, e quanto c'è di buono in Feuerbach, scartando le sue carenze e le sue lacune. Cerca quindi di sintetizzare la visione dialettica, la visione attiva, la visione dinamica di Hegel con quella concreta di Feuerbach, rimettendo sul piedi l'uomo che Hegel aveva posto sulla testa, ma a differenza di Feuerbach facendolo anche camminare, facendolo anche agire, dandogli quella azione, quell'attività, quella iniziativa, quella prassi storiche che in Feuerbach invece vanno in secondo piano, se non decisamente perdute. Procediamo con la lettura del nostro paragrafo 2 barra 2. Dunque, lo sfondo, il piano a cui per contrasto fa riferimento il piano della realtà data, dell'essere determinato, della realtà presente, come abbiamo detto poco fa, è invece il piano dell'assenza, non è il piano della presenza, ma il piano dell'assenza, quello che viene richiamato dall'esame critico della realtà presente. L'esame critico della realtà presente, mostrandoci le sue carenze, ci rinvia ad una realtà diversa, ad una realtà assente, ad una realtà non ancora realizzata, non ancora compiuta, ad una realtà mancante. Quindi questo secondo piano al quale ci rinvia criticamente il piano dell'analisi, dell'essere determinato, è il piano dell'assenza, della mancanza. Si tratta di un piano più profondo, abissale, questo è un termine che piacerebbe molto a Friedrich Nietzsche, a cui appartiene ciò che è stato respinto e confinato nell'ambito della mera potenzialità inespressa, ciò che è stato privato della libertà di esprimersi e di esistere, esistere, emergere e che da quel vacuum, da quel vuoto di essere in cui è stato confinato, invoca giustizia e soddisfazione. Allora questo piano esigenziale, questo piano della carenza, dell'assenza, della mancanza, del bisogno, del desiderio, è il piano di tutte quelle istanze che nel corso della storia sono state soppresse e barra o represse. L'istanza di giustizia, l'istanza di solidarietà, l'istanza di libertà, l'istanza di creatività e chi più ne ha più ne metta, di equità. Tutte queste istanze da quell'abisso di ciò che è assente invocano giustizia e invocano quindi di essere richiamate alla vita, alla realtà, emancipate dalla violenza e dalla repressione di cui sono state ingiustamente fatte, oggetto. Ma è anche questo secondo piano, questo piano esigenziale di cui stiamo parlando, il piano più alto e ad un tempo più profondo a cui fanno riferimento i tragici greci, quando invocano una giustizia diversa che non esiste o, come sappiamo, che non esiste ancora. Vedi, eschilo, prometeo incatenato, patisco ingiustamente questa denuncia di un patire di una sofferenza ingiusta, quindi l'esigenza, il riferimento esigenziale ad una giustizia diversa, più piena, veramente giusta, che non sia fonte di sofferenza per chi, come Prometeo, si è macchiato esclusivamente della colpa di un atto di generosità, di aver donato il fuoco all'umanità, questa capacità creativa di cui il fuoco è simbolo ed emblema. Oppure Soffocle, Antigone, sarà bello per me morire avendo compiuto un crimine sacro, un fortissimo ossimoro, troviamo in questi termini, un crimine sacro, come fa un crimine ad essere sacro? Un crimine può essere sacro solo quando è compiuto nel nome di una giustizia più alta, nel nome di quelle leggi del cuore, di quelle leggi del sentimento che portano Antigone a dare pietosa sepoltura a suo fratello, violando le leggi che pur ella apprezza e rispetta, ma sono leggi della città e non leggi del cuore, dell'animo, del sentimento. E' un piano, sempre questo piano esigenziale, questo piano della mancanza, dell'assenza, che pertiene ad una giustizia, ad una legge, ad un criterio di scelta e di comportamento che non esistono ancora, che non sono né dati né rivelati, ma che sono pur sempre praticabili dall'uomo come risposta a distanze apparentemente inconciliabili, come nel caso di Antigone, la legge della città e la legge del cuore. Antigone sa trovare, rispetto a questa alternativa, una terza via, un comportamento che mette insieme giustizia e pietà. La giustizia delle leggi della città, la pietà delle leggi del cuore, delle leggi del sentimento. Quindi, ancora una volta, una risposta dialettica, una sintesi, una terza via, terza via che non sempre c'è, non sempre è praticabile, ma che noi forse possiamo, anche laddove non c'è, inventare e creare di bel nuovo. Ho questa terza via, questa risposta nuova, vista come, riprendiamolo la lettura, risposta fondante, ma non fondata, all'enigmaticità e alla tragicità dell'esistenza, a quelle alternative, a quelle situazioni senza apparente via d'uscita, nelle quali l'esistenza spesso, nella sua tragicità, ci pone. Antigone è in grado di trovare una risposta sua, autonoma, in questo senso non fondata, fondante perché fonda una nuova giustizia, crea una nuova idea di giustizia, non fondata perché non ha alle spalle principi, leggi già fatte e già fatti ai quali ispirarsi. Ecco perché è fondante ma non fondata, non ha qualche cosa, un terreno già stabilito sul quale poggiare i piedi. Questo terreno se lo deve creare, se lo deve costruire. Quindi è una risposta fondante perché fonda, crea una nuova scala di valori, un nuovo sistema di valori. preesistente al quale rifarsi e richiamarsi. È sempre questo nuovo piano, il piano di un terzium, di una terza via, come dicevamo, di una sintesi dialettica che non si nega all'uomo. L'uomo può cercare, trovare, inventare, costruire, ma che nemmeno gli si offre nell'ambito teofanico, nell'ambito di rivelazione divina, di una dialettica apollinea e garantistica. Non siamo nell'ambito di una dialettica di tipo hegeliano qua. Siamo piuttosto nell'ambito di una dialettica aperta, non di una dialettica chiusa, come quella hegeliana, nella quale la possibilità di una sintesi è sempre garantita. E qui non è detto che la sintesi sia possibile e minchimeno che sia garantita. Antigone cerca e trova una sua personale sintesi, ma mettendo a rischio se stessa. E infatti, concludiamo la lettura di questo paragrafo, è il piano di una risposta che l'uomo può trovare solo al prezzo di rinunce e di sofferenze. Nuovamente, eschilo qui, Agamemnon è questa volta, soffrendo si impara, si impara soltanto al prezzo di sofferenze. Imparare è soffrire, imparare è fatica e solo a condizione di accettare il rischio di mettere in forse e in pericolo se stesso, come fa Antigone, di perdersi per potersi ritrovare, mettere in forse e in pericolo se stesso, come fanno diversi protagonisti tragici, come fa Prometeo, come fa Antigone, come fa Sisifo, anche nell'omonimo mito, che corre personalmente il rischio di essere condannato e non soltanto, ma addirittura accetta le conseguenze di questo rischio, ricominciando ogni giorno da capo la sua fatica instancabilmente e con una, potremmo dire usando qui un altro simoro, con una speranza disperata. Ecco, questo ce lo mostra molto bene Camus, Albert Camus, nella sua opera Il mito di Sisifo, alla quale volentieri vi rimando. Questa strada di emancipazione, questa via di emancipazione, questo cammino, questo itinerario pericoloso e faticoso di emancipazione ci ricorda molto, molto da vicino l'itinerario e il cammino di conquista della libertà. Ancora una volta, utopia e libertà, pensiero utopico, cammino utopico e cammino liberatorio vanno di pari passo, vanno di pari passo. L'ultima espressione, perdersi per potersi ritrovare, è invece un'espressione tipicamente hegeliana. Abbiamo detto che Marx stesso riconosce il suo debito nei confronti di Hegel. Hegel stesso, soprattutto nella fenomenologia dello spirito, ha messo molto bene in evidenza questo rischio che la nostra coscienza corre quando cerca se stessa, quando cerca la propria verità. E per trovare questa verità deve dapprima perdersi, un po' come fa il Dante della Divina Commedia, che deve prima perdersi, passare attraverso il regno della perdizione per poter arrivare poi alla salvezza. Così la coscienza della fenomenologia hegeliana è quella coscienza che deve, a detta dell'autore stesso, percorrere la via del dubbio, la via della disperazione. Deve prima rischiare di perdersi se stessa, mettersi in dubbio, mettersi in discussione, sottoporsi al vaglio critico del dubbio per potersi poi ritrovare in una forma ed in una dimensione autentica. Bene, cari amiche e cari amici, vi ringrazio della vostra attenzione, vi prego di mettere il vostro mi piace se il video è stato di vostro gradimento e vi do la rivederci alla prossima chiacchierata. Ciao a tutti.